Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo il volume lo studio digitale dall'idea musicale al vostro disco o mp3 di Stefano Antoniazzi editore Libri Sandit. Il volume costa 19,90 ed ecco alcuni degli argomenti trattati, fondamenti del suono ed elaborazione digitale, impianti, impianto e software di base, acustica dello studio, applicazioni di editing e registrazione multitraccia, principali standards, strumenti virtuali, sintesi, campionamento, effetti e processori digitali, registrazione di parti vocali e strumenti tradizionali, realizzazione di un cd audio e mp3. Grazie per l'attenzione, se volete potete iscrivervi al nostro canale YouTube. Grazie al prossimo video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.